Ben ritrovati, come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di lasciarci un bel like, oggi per me è una giornata bella intensa, sarò a scuola ovviamente per il mio lavoro fino a tarda serata e dopo grazie a Dio potrò recarmi nei meravigliosi studi di Tele Lombardia barra la 7 Gold dove commenteremo le partite di Champions di cui voglio anche darvi un breve pensiero, ci sarà il Paris Saint Germain che dovrà cercare questo ribaltamento di situazione, vittoria del Barcellona, secondo me è sorprendente ma ricordate che l'intelligenza artificiale che non è infallibile ma che nei due anni antecedenti ha azzeccato in pieno i vincitori e ha detto che quest'anno vincerà il Barcellona Io esattamente come molti di voi che ascolterete questo video, quando l'ho sentito mi sono messo a ridere perché ho detto no figuriamoci il Barcellona, davamo addirittura chance al Napoli che potesse farcela, il Barcellona vince una Champions con dentro Real Madrid e City Ma la Champions è strana, intanto una delle due tra Real Madrid e City andrà a casa, punto numero uno e punto numero due il Barcellona sta cercando di trovare la qualificazione contro un outsider importante Un Paris Saint Germain che io davo tra le favorite perché è partita da fare i spenti, ho sbagliato clamorosamente, lo vedremo stasera, si passerà al Barcellona con possibilità di derby italiano perché l'Atletico Madrid va a Dortmund forte del 2-1 in casa Non ci sono più i gol doppi, sappiamo che con i gol doppi il 2-1 era un pessimo risultato mentre adesso è un risultato decisamente interessante perché comunque il Dortmund dovrà fare due gol Per il discorso del ranking l'Italia spera che vinca l'Atletico Madrid, che passi il turno all'Atletico Madrid in modo da lasciare indietro la Germania Ci potrebbe essere una semifinale già tra Atletico e Barcellona, il che significherebbe una Spagnola in finale Pronostico mio, Paris Saint Germain-Barcellona, io do 51 al Barcellona, voglio dare ancora 49% al Paris Saint Germain Credo che sia sempre molto difficile andare a ribaltare in terra catalana, mentre per l'altra semifinale vedo nettamente favorito l'Atletico del Ciolo Quindi dico 65% Atletico Madrid, 35% Borussia Dortmund Ma ovviamente non sono qui soltanto per fare i pronosti di Champions ma per commentare questa notizia che è uscita fuori questa mattina su alcuni siti anche abbastanza autorevoli Cioè del fatto che l'arrivo di Manna a Napoli, ormai non è più un mistero, Manna sarà il prossimo dirigente che collaborerà con Aurelio De Laurentiis per ricostruire dopo questo anno disgraziato la formazione partenopea Potrebbe esserci addirittura un clamoroso arrivo di Massimiliano Allegri Sappiamo che il casting del Napoli è estremamente ampio, la testa di serie numero uno, il favorito, chiamatelo come volete Ha usato un gergo tennistico Antonio Conte, De Laurentiis lo sta corteggiando da tantissimo tempo Ma sappiamo anche che in subordine c'è Vincenzo Italiano che però non convince del tutto la dirigenza azzurra Poi sono entrati prepotentemente Stefano Pioli, ancora non sicuro di poter rimanere al Milan Ma addirittura Giampiero Gasperini, sappiamo che De Laurentiis si è spesso innamorato del tecnico attualmente all'Atalanta Dopo la vittoria orobica per 3-0 ad Anfield, diciamo che è tornato prepotentemente tra i suoi favoriti Ma, ma arriva questa notizia, cioè che insieme a Manna, Manna stravede per Allegri Ci sarebbe l'eventuale tentativo da parte di Manna di portare Allegri a Napoli Si parla, ma qui entriamo un po' nelle voci spesso incontrollabili, lo definisco un po' le voci incontrollabili in sala mensa Citando Fantozzi, si parla addirittura di una Juventus che pur di liberarsi di Allegri pagherebbe per un anno metà dell'ingaggio Quindi il Napoli potrebbe avere metà dell'ingaggio pagato per poi proseguire da solo Dipenderà quanti anni di contratto farà ad Allegri E qui ovviamente arriva il mio pensiero, la mia opinione Chiedo scusa a quel pubblico partenopeo, anche se io ho avuto i nonni a Napoli Quindi un pochino, un pochino di napoletano, me lo ricordo, ma adesso pronuncerò malissimo Quindi chiedo scusa anticipatamente, mi pare che a Napoli si dica A cani sciune fess Cioè io non credo che oggettivamente, per quanto Manna possa sponsorizzare Allegri Che Allegri possa andare a Napoli Già l'idea Conte non va propriamente a sposare quella che è la filosofia di gioco del presidente Aurelio e dell'Aurentis Chi sono stati gli allenatori del Napoli? Sarri, Spalletti, Benitez, tutti allenatori propositivi, tutti allenatori che fanno giocare alle loro formazioni d'attacco Chi sta cercando dell'Aurentis? Al di là di Conte, italiano Quindi in tutta franchezza, un clamoroso comeback Il Napoli comunque nella sua storia è una squadra che sceglie la via del gioco propositivo Tanto è vero che quando arrivò Gattuso al posto di Ancelotti Ricorderete tutti cosa accadde in quella stagione rocambolesca, la stagione del Covid Perché vide comunque Gattuso vincere la Coppa Italia proprio in finale a Roma contro la Juve Gattuso non aveva mai convinto Proprio perché non sposava la filosofia di gioco che piace dell'Aurentis Ma che è nelle corde e nella storia del Napoli Quindi io credo che al di là del palmarès di Allegri Al di là della suggestione Al di là del fatto che comunque vorrebbe dire portare a Napoli Un nome comunque importante Perché insomma Allegri sapete che non lo amo per usare un eufemismo Però il mio mancato apprezzamento sportivo nei confronti del suo gioco Non va a cancellare l'Albodoro Che comunque rimane la bibbia del calcio Non credo proprio che dell'Aurentis dopo aver cercato Conte Che comunque ripeto non sposa la filosofia del Napoli Ma è un sergente di ferro Uno che veramente potrebbe prendere per le mani la formazione partenopea E plasmare la sua immagine e somiglianza Non credo proprio che ci possa essere un interessamento Nei confronti di Massimiliano Allegri Piuttosto credo che la grande propaganda Pro Allegri, non sentite di tutti i colori Qualcuno adesso che sta attaccando Gasperini Perché ha pareggiato ieri 2-2 con il Verona Stiamo davvero dando i numeri per come si vuole appoggiare Massimiliano Allegri Probabilmente è stata inventata anche questa voce E adesso è il pubblico Sono i tifosi partenopei che devono sopportare anche questo Ribadisco e chiedo ancora scusa per la pronuncia A che nessuno è fesso